L'aloe vera è una pianta grassa che da secoli viene utilizzata per scopi medici, farmaceutici e cosmetici. È ricca di amminoacidi, enzimi, vitamine e polisaccaridi che sono responsabili delle sue importanti proprietà benefiche. Incorporare queste proprietà in un film di biopolimeri ottenuto da alginato e chitosano ha permesso lo sviluppo di una nuova medicazione con capacità antibatterica ed effetti curativi che vanno ad integrare la capacità antibatterica delle nanoparticelle di argento con le proprietà curative ed emollienti del gel di aloe vera. È stato dimostrato che la capacità antibatterica delle matrici caricate con nanoparticelle d'argento e gel di aloe vera potrebbe essere una valida alternativa all'uso della tetraciclina e della gentamicina. Quindi la sinergia tra alginato, chitosano, gel di aloe vera e nanoparticelle di argento, offre un'alternativa promettente da utilizzare nelle applicazioni antibatteriche. Questo metodo alternativo può aiutare a ridurre gli effetti secondari degli antibiotici che comunemente vengono usati nei trattamenti delle ferite, con il vantaggio che le matrici sviluppate promuovono la guarigione delle ferite attraverso le loro caratteristiche chimiche.